I genitori degli alunni della scuola materna Gallizzi in via De Tonsis a Fano che giovedì della scorsa settimana subirono i disagi dovuti all'allagamento di sei aule su sette in conseguenza del nubifraggio che durante la notte si abbatté su tutta la città temono che ciò si possa verificare nuovamente. L'autunno ha fatto decisamente il suo ingresso stagionale e abbondanti piogge sono previste per i prossimi periodi e questo non fa dormire sonni tranquilli a mamma e papà che affidano in loro i piccoli alle amorevoli cure del personale che con grande senso di responsabilità giovedì scorso per far patire meno disagi possibili alle famiglie ma soprattutto ai piccoli alunni hanno fronteggiato senza remore secchi e stracci alla mano la situazione fin dalle prime ore del mattino ripristinando verso le 9.30 il 90% della situazione ma le conseguenze sono ancora oggi ben visibili nelle strutture della scuola. Non ci sembra neanche giusto che le maestre anziché seguire il progetto educativo didattico debbano asciugare l'acqua quando si potrebbero cambiare gli infissi o cambiare la pompa adesso noi non siamo tecnici non sappiamo cosa fare. Già il comune si è detto pronto ad intervenire ci sarà una variazione di bilancio a fine settembre e loro ci hanno promesso di mettere questa spesa appunto in questa variazione quindi a breve ci dovrebbero essere questi interventi e noi siamo fiduciose che non siano solo parole ma che diventeranno fatti e lo speriamo vivamente. Quindi ora non si vuole che come si dice è passato il santo, è passata la festa e che tutto cada nel dimenticatoio per cui oggi ritornano sull'argomento per spronare assessori ai lavori pubblici e alle scuole ad intervenire con urgenza dato che comunque i bambini soprattutto quelli dell'inserimento hanno subito mostrato evidenti segni di spaesamento e disattenzione dovuti alla situazione che si era creata. Soprattutto da parte dei bambini nuovi iscritti che stavano facendo l'inserimento qualche mamma proprio anche questa mattina mi ha raccontato come i loro figli pensavano di andare in una classe invece si sono ritrovati in un'altra e questo ha creato un po' di scombussolamento era il primo giorno di frequenza cioè già era un ingresso un po' difficile e anche per i vecchi utenti qualcuno si è sentito un po' scombussolato di non poter accedere alla propria aula anche se poi è stato temporaneo però ecco c'è anche un disagio per i bambini. Grazie